Tra le rovede, o che mi sono? OLE! Trovate, vengono a qui chi è? Tu sei un velo? Ho dai voci a me non ci metto, mi metto. Solo, 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 solo mi in casa, sstranto da teatretto e tutto quello che vedo. Che sfida? L'haga, ma pure, lo capete? No. No? No, vieni! troppo una cosa che avete fatto se non so non mi avessi è stato in cui non gli altri e non so Hill o sott e Rolene eppure eppure 2 cielo non so ma non so sono No, ma non ho mai saputo che non mi capitaŞimdare non mi chiede, ma non mi chiede, vorrei lasciare un ragazone Qua tanta faccia la sua, mi chiede? Il testo è un ragazone, non il testo è un ragazone Non si seattendi a questo? Non ci servisci? non andorario non andorario mi sono arrivati non andorario non andorario non ma non andorario non andorario Ma vai scelta qui. No si può andare a scelta, ma vanno a scelta. No si può andare a scelta l'impianto, ma si può andare a scelta. Ma vanno ad andare. Ma vuoi vas prose. Ok. No si può andare a scelta. vissi vuist, vissi vetta all'inizio. My entrante. Ma tu mene, usate. Kanno proprio che, ma oon siin ma grazie poco por di teat. Ma ha avuto un' Walkingker, ma c'è un'Hermini il l'Hermini il l'Hermini. L'Hermini il l'Hermini di L'Hermini il l'Hermini. Sii c'è un'Hermini il l'Hermini il l'Hermini il l'Hermini il l'Hermini il L'Hermini. C'è un'Hermini? ma poi le petti ma io lo li tosto mai le petti ma io ho alcun po' lì